Davvero questa cosa non si capisce? Se Dio ha disposto tutto per la nascita di suo figlio, perché questa terribile mattanza, tanto più inaccettabile quanto più si accanisce sugli indifesi o sui piccoli, non si poteva evitare, non si poteva mandare Erode via da Gerusalemme in viaggio anche solo magari per qualche giorno o qualche settimana. La verità è che Dio non guida la storia in questo modo, Dio non dispone fatti ed eventi a suo piacimento. Da quando ha creato il mondo ha rinunciato ad intervenire direttamente, Dio si è ritirato dal mondo come dice una tradizione ebraica. Agisce attraverso gli uomini, affidandosi alla loro libertà, ama talmente gli uomini da rimettersi alla loro libertà e quindi anche alla loro capacità di male. Ma allora tollera il male? Permette il male anche quello più atroce contro gli innocenti? Amare carissimi significa essere vulnerabili, non c'è amore senza debolezza, senza un bisogno invincibile dell'altro, un bisogno a cui può corrispondere anche un rifiuto. La storia della salvezza può essere letta come il progressivo disvelamento di questa terribile ma paradossale verità di Dio. Egli è debole, egli ci ama talmente da aver realmente bisogno del nostro amore libero e da accettare il nostro rifiuto. Non c'è carissimi amore senza libertà. Al nostro male, alla nostra tragica capacità di rifiuto, oppone solo una misura ulteriore di amore. Buona e santa giornata a tutti!